Campionato di Serie C1, Girone A, la fortitudo Futsal Pomezia torna in casa per continuare la striscia positiva davanti il Carbognano Minavagante del Girone. La squadra di Esposito però inizia subito alla grande al secondo minuto, la splendida combinazione per Zullo che firma il vantaggio della squadra pomettina. Poi il Carbognano esce fuori, ottima l'occasione per Valero Carosi sotto misura, ci prova poi Raubo con il diagonale di piattone, finisce sul fondo. Il pareggio arriva però grazie a Martinozzi ben posizionato sul tiro di Carosi ed è 1-1 al tredicesimo. Ci prova poi Stefano Carosi dalla distanza, ancora Carbognano, Martinozzi, ancora Stefano Carosi. La fortitudo però riesce a tornare in vantaggio il break di Zanobi che poi va a concludere in azione personale ed è 2-1 per la squadra di Esposito. Che poi si sblocca mentalmente, Zullo sotto misura non riesce a trovare il gol ma si rifà subito ancora una volta in tandem con Desimoni. Montagna mette dentro e poi Daniele Zullo firma il 3-1. Il Carbognano però è sempre vivo, arriva così il gol di Valero Carosi ed è 3-2. Da qui in poi soltanto fortitudo, Desimoni per Zullo ancora sotto misura, l'ottima combinazione. E i due si ripetono in coppia d'oro ancora una volta, di nuovo Desimoni per Zullo. E comincia a dilagare la fortitudo, Daniele Zullo è davvero scatenato, arriva il gol ancora una volta del Asso Pometino con l'assist di Montagna. E prima dell'intervallo su schema c'è anche il gol di Zanobi, secondo personale ed è 7-2 all'intervallo. Nel secondo tempo Carbognano perde le residue speranze, liscio, clamoroso del portiere, Montagna va a firmare l'8-2. Sarà poi anche la gioia per Cavalieri, tiro con poche pretese, finisce però in gol. Ancora una volta Zullo a segnare il decimo gol della partita per la fortitudo, poi va a restituire il favore a Montagna per l'11-2. Il gol della bandiera per gli ospiti arriva con Martinozzi, uno degli ultimi a mollare. Poi nel finale ci sarà anche la gioia per Carotenuto in estirada, in seconda battuta trova il gol personale. A chiudere il tabellino è Mariani per il Carbognano che fissa il punteggio sul 12-4. Vittoria schiacciante per la fortitudo a vele spiegate verso il finale di stagione.